Ragazzi, questo qui sarebbe dovuto essere un video nel quale in qualche modo me la rido, ok? Perché all'effettivo quello che sta succedendo in queste ore è del grottesco. Però, ecco, cominciamo con questo. Io per fare questo video oggi, perché è un video che non è che voglio fare, attenzione, è un video che devo fare e non l'ho deciso io questa volta. È una delle poche volte in cui non ho deciso io di fare un video. È una cosa che purtroppo è successa questa mattina e veramente, io sono senza parole. Diverse volte mi è capitato di parlare del fatto che secondo me su YouTube non esistono colleghi e se esistono veramente si contano sulle punta delle dita di una mano. Perché, ragazzi, per quanto lo si voglia far passare YouTube come questo posto in cui tutti quanti sono amici, no, YouTube è un posto in cui la maggior parte delle persone non vede l'ora di sfruttarti e poi buttarti da qualche parte appena non ti servi più, ok? Io purtroppo non sono questo tipo di persona, quindi questa cosa me la vivo decisamente male. C'è anche da dire che un sacco di gente che si ritrova a fare YouTube, fa YouTube semplicemente perché in qualche modo è riuscita a fare due spicci e in qualche altro modo, capito, non ci riuscirebbe. Non è tagliata per fare nessun altro lavoro perché ovviamente un sacco di gente non rispetta scadenze, non rispetta quelle che sono le norme in certi posti, non si sa comportare e soprattutto una cattiveria che deve sfogare sugli altri in maniera insensata. E YouTube è il posto giusto, tante volte. Non dovrebbe, ma YouTube, insomma, ci ho fondato un canale sul farvi vedere tutto lo schifo che c'è su internet. Però allo stesso tempo io sono innamorato di internet. Nel senso, se non fosse per internet, io stesso non farei tutte le cose che ho fatto e che sto continuando a fare. Adesso, perché vi ho fatto questo preambolo, ragazzi? Perché purtroppo quello che sta succedendo in queste ore è un qualcosa che in realtà continua a succedere da quattro anni. Ogni tanto ho fatto accenni a questa cosa, però l'ho sempre tenuta per me. Questo anche a dimostrazione del fatto che a differenza di tante malelingue che dicono che io ho questa cosa, che devo fare video su tutto, 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 perché tanto basta guadagnare. No, non è vero. Quello che faccio, ragazzi, è attentamente selezionato tra tantissime idee che ho. E se vedo che qualcosa potrebbe effettivamente causare qualche problema, evito di parlarne. Per esempio, io non parlo di fatti miei privati sul canale. Al massimo di qualcosa che poi alla fin fine si vede comunque, come per esempio una malattia. E anche di questo parleremo oggi. Mi sono veramente stancato di dover parlare di questa cosa, non ce la faccio più. Può essere, non lo so, un incidente o una cosa del genere. Questo tipo di cose per me non sono vita privata, sono cose che succedono fuori da quella che è la mia vita privata. Se mi rompo una gamba, per dire, e per un mese o due, mettendo proprio l'esempio, mi vedete col gesso, penso che sia anche mio diritto fare un video ed eventualmente riguadagnare su qualcosa di negativo che mi è capitato, ok? Quella roba per me non è privato. È privato tutto ciò che è legato alla mia sfera personale, ok? Quindi a quelle che sono le mie relazioni, quello che sono i miei affetti, quelli che sono i miei non affetti. Questa roba è tutta quanta privata ed è un diritto inalienabile dell'individuo che resti privata. Punto. Voi potete pensare quello che volete, ma questa roba è privata. Esiste la privacy. Punto. Punto. Adesso, recentemente vi ho parlato del fatto che sono successe delle situazioni per dei video che ho fatto e grazie ad alcuni video sono state sgamate delle situazioni in cui effettivamente avveniva un qualcosa di molto molto pesante. In particolare stiamo parlando di tutta quella situazione che riguarda i vari server anti-tiktok e non solo perché da lì, in questi giorni, sto scoprendo sia io che i miei moderatori, che le persone che lavorano con me, che un sacco di gente, anche semplicemente i miei amici. Siamo venuti in contatto con una situazione enorme. Una situazione spaventosa, ragazzi. Purtroppo al momento posso fare veramente poca parola di questa cosa a riguardo, quindi sarà un video abbastanza ammiccante. Cercate di capire. Questa roba ho scoperto essere collegata ad un sacco di persone che ce l'hanno con me. Da anni. Da anni. Esiste una live di qualcosa come 5 ore ricaricata sul secondo canale in cui mi sono diviso dalla maggior parte delle boiate e delle cattiverie che sono state messe in giro nei miei confronti nel corso degli anni. Sul serio io non ho parole di quello che mi è venuto a manifestarsi davanti agli occhi oggi. Perché quello che ho dovuto leggere su di me è letteralmente terrificante perché ho scoperto che questa cosa va in giro da 4-5 anni, se non di più. È una cosa falsa che è stata messa in giro su di me, a quanto pare da persone, qualcosa come 4 anni fa, e io non ne avevo la minima idea. Ci sono rimasto abbastanza di sasso perché mi sono svegliato proprio con questo messaggio stamattina di una persona che mi faceva vedere questa cosa che veniva messa in giro come prova nei miei confronti, che poi già fa ridere come cosa, capito? Perché prova nei miei confronti. Perché questa cosa sta venendo usata da della gente strana su internet e non da qualcuno che lavora nelle forze dell'ordine? Punto primo. Perché ciò che ho visto per far vedere, ragazzi, è molto grave. Veramente molto grave. E questa volta, anche giusto per farvi capire perché sto facendo questo video, non sono neanche io ad essermi arrabbiato. Perché io ho visto questa cosa, sono abituato ormai purtroppo a ricevere tanto schifo tutti i giorni della mia vita. Io mi alzo la mattina, so che qualcuno dirà o farà qualcosa nei miei confronti. Cerco sempre di non darlo a vedere, cerco sempre di sorridere nei video, di far vedere che va tutto quanto a posto, però non va tutto quanto a posto. Sono anni che c'è una situazione che mi grava addosso. Avete presente la situazione di Bugalalla? La situazione di Bugalalla, e Francesca mi perdonerà per quello che sto per dire, ma è molto più leggera della cosa che ho addosso io da anni. E pochissimi sanno di questa situazione. Perché effettivamente è una cosa così privata, che in realtà non è privata perché è tutto pubblico ciò che è stato fatto su di me, ma è una cosa così privata. tutta l'enorme conseguenza che questi atti nei miei confronti hanno portato, che io non ne faccio parola perché semplicemente amplierebbe quello che è un disastro già di per sé. Ma capito? Non dal punto di vista che io abbia effettivamente fatto qualcosa. Attenzione, perché io non ho fatto proprio niente. Tutto quello che viene messo in giro su di me da queste persone è tranquillamente smentibile dalla semplice logica. Quindi, prima di continuare tutto quanto il discorso, sappiate che quello che sto facendo oggi per me è rischioso. Molto rischioso, ragazzi. Perché non avete idea della roba che c'è dietro. Ripeto, non posso al momento fare nomi, non posso dire più di tanto. Spero un giorno molto presto di poterlo fare. Però allo stesso modo io penso che sia giusto in qualche modo tutelarmi. Quindi, innanzitutto vi faccio vedere quello che mi è capitato davanti agli occhi stamattina. Parliamo di questo screen, ragazzi. Parliamo di questo screen in cui c'è scritto il mio nome, non c'è un'immagine profilo, ci sono degli orari e vabbè, non so neanche che cazzo sia sta roba. Forse di Discord, forse, non so, una versione strana di Telegram. Non ho idea, ragazzi, sul serio. Sono allibito per quello che ho dovuto leggere, specialmente perché è legato alla mia persona e soprattutto basato, basato, su quella che purtroppo è stata una mia sfortuna diversi anni fa. Se inizio una cosa, devo vincere e non me la levo dalla testa finché non ho vinto io, quindi proprio per questo rinuncio a prendere in causa molte cose. Ho iniziato a rendermene conto quando una volta a 14 anni sfiorai l'omicidio di un tizio che si comportava esattamente come nome e cognome di un canale microscopico che diversi anni fa mi faceva dei video contro, diffamatori. Non so in che modo una cosa del genere possa anche solamente essere credibile, ma continuiamo. Fortunatamente mi sono fermato prima, non ne vado particolarmente orgoglioso, ma funziono così. Adesso io vorrei capire innanzitutto chi ha scritto questa cosa, perché io, a parte che non scrivo in questa maniera, manco per sbaglio, ci sono due virgole in cinque frasi. È una cosa, per carità di Dio, non mai in vita mia mi azzarderei a scrivere così male. Punto primo. Punto secondo è gravissimo quello che ho dovuto leggere. Ragazzi, allora. Io capisco che quando qualcuno è con le spalle al muro, ha fatto qualcosa di orribile, e questa cosa viene esposta in un reportage, siano effettivamente poche le cose che abbia senso dire. Una sola avrebbe senso dirlo. Mi dispiace, non lo faccio più. Punto. Nient'altro. Io non ho mai richiesto che venisse fatta questa cosa. Capisco che ci possa essere della rabbia, anche se non dovrebbe, ma capisco che ci possa essere della rabbia, che tra l'altro è un indicatore di paura, la rabbia, nei miei confronti, perché ho esposto un certo tipo di roba che esiste su internet, con tanto di persone che l'hanno fatto che poi persone. Ragazzi, no, io non ho esposto a nessuna persona. Purtroppo, purtroppo. Perché sono una persona che rispetta quella che è la privacy nel possibile. Se poi qualcuno fa questa cosa con il proprio nome e cognome vero, e sono tutte quante cose pubbliche, la smette di essere un mio problema. La veramente che smette di essere un mio problema. specialmente quando poi io, all'inizio, cerco sempre di tutelare dove possibile, perché mi rendo sempre conto che le persone irresponsabili, che le persone rapide esistono. Io sono una persona molto attenta a certe cose, sarà che una certa cultura al riguardo, sarà che un certo modo di capirle certe cose. Purtroppo, ragazzi, un sacco di persone sono stupide, non ci arrivano a capire certi ragionamenti, e voi potete stare lì tutto il tempo che volete a spiegarglieli, non ci arriveranno mai. Mai. Perché hanno proprio dei limiti, secondo me, in testa, altrimenti non si spiega. Quindi, a questo punto cosa succede? Rileggendo questo screen, io mi sono svegliato così, ho detto, oddio, da dove arriva adesso sta cosa? Innanzitutto, guardate quanto è sgranato. Giusto per farvi capire, ovviamente, ragazzi, è uno screen falso. Ovviamente è uno screen falso. Cioè, non penso neanche di doverlo specificare, perché penso di essere seguito da delle persone intelligenti che si rendono conto che questa cosa qui è un falso. Io questa cosa, appena l'ho vista, ho detto, aspetta un attimo. Potrebbe essere uno scherzo. Potrebbe essere un qualcuno che sta cercando di fare qualcosa. Mi sono reso conto, poi, dopo essermi confrontato con tante persone che conoscono tutta questa dinamica, mi hanno detto, guarda, purtroppo questa cosa qui non pare essere uno scherzo. Purtroppo c'è qualcuno che sta mettendo in giro questa cosa da diverso tempo e non è uno scherzo. Cioè, è gente seria. È gente che pensa veramente questa roba qui perché qualcuno ha fabbricato questa roba e l'ha messa in giro. Questo, ragazzi, è la dimostrazione di tutto quello che vi ho sempre detto in anni e anni di canale. Le persone queste cose qui le fanno. Le persone queste cose qui le fanno. E non hanno alcuno scrupolo nel farlo. Perché? Semplicemente, ragazzi, perdonatemi, eh, perdonatemi. Però io non avrei il tempo di fare una cosa del genere. Se qualcuno ha il tempo di mettersi a fare un qualcosa di questo tipo qui, non mi spiego veramente com'è che sia fermo nella sua vita quando ha 10-20 anni in più di me. Perché tutta questa roba io ho scoperto in qualche modo più o meno da dove arriva. E qui arriviamo a un punto. Arriviamo a un punto. Io ho mandato questa cosa qui al mio manager e lui mi ha gentilmente chiesto di far sentire questo audio pubblicamente. Quindi, giusto al riprovo del fatto che non sono io la persona a questo punto a voler procedere da certi punti di vista e probabilmente non sarò neanche io a farlo. Ma sarà il mio manager e comunque la gente che lavora con me perché questo qui è un danno di immagine pesante. Veramente pesante. Che va a minare quella che è la mia persona e tutti coloro che lavorano con me. Vi lascio a quello che è l'audio. Ci sentiamo tra qualche secondo. Ma fai Furby quanto gli pare? Tanto se sono solo collegati a questa cosa passano i guai. Perché tutti quanti dicono io ammazzo i bot nessuno io porto la gente in tribunale e gli faccio pagare per tutti i crimini che fa. Perché questo è un crimine. Questo è un crimine. Capito? Non farciare queste cazzate porcherie stupide. E soprattutto tu fai tranquillamente la cosa bella è la postale l'ho inviato io? L'ho inviato io perché se l'ho inviato io è... No, il cazzo. Scopriamo tutto, scopriamo. Sti scemi che pensano che la postale lavora con le lettere. Andassero a lavorare andassero. Puoi tenere anche quest'audio nel video. Allora, dunque. Sì, è veramente un qualcosa ragazzi che mi mette un imbarazzo tremendo perché cioè tu immagina dover spiegare una cosa del genere e in realtà non è un dover. A questo punto è un... Cioè se non lo faccio poi metti caso che succede qualcosa. Metti caso che qualcuno non ha questo video per vedermelo in faccia un attimo qual è la verità. Questa roba è stata messa in giro qualcosa come quattro anni fa se ho capito bene alle mie spalle da altri youtuber. Questa riprova di quello che vi dicevo poco fa ragazzi. Su youtube raramentissimamente esistono gli amici ancora più raramente i colleghi veri. Allora, adesso io il numero di telefono di questo tizio purtroppo non ce l'ho più perché ragazzi nel corso degli anni chi è che si tiene di certa roba soprattutto di certa gente con cui non vuoi avere a che fare togli tutto. Quindi non ho avuto la possibilità materiale di chiamare questa persona e intimargli gentilmente di finirla perché sono diversi anni che va avanti sono diversi anni che io nel corso del tempo affronto diverse dinamiche sul canale e puntualmente trovo delle persone che vanno da questo youtuber che in realtà fa parte di tutta quanta una cricca enorme di gente sotto i commenti a dirgli ah guarda gematria questo quest'altro mi vuole fare un video io non faccio i video contro io faccio dei reportage che è tutto un altro discorso. Comunque sia parliamo sempre di gente ragazzi che fa delle cose atroci online cioè il meno magari può essere del doxing può essere del cyberbullismo qui questa volta abbiamo a che fare con gente che in qualche modo non si capisce come anzi specifichiamo anche questa cosa nel video è legata a materiali espliciti di bambini questo campione l'ho pescato 300.000 volte a confermare il fatto che per esempio io mi inventi delle malattie e di nuovo come mai questa cosa viene detta nei commenti su youtube e non viene detta per esempio all'interno di un'aula di tribunale perché effettivamente inventarsi malattie e poi ho sentito anche in questi discorsi dire che io prendo sussidi roba io non prendo nessun sussidio niente zero e non lo voglio nemmeno nel senso sarebbe un frodare il sistema sanitario italiano è un reato molto grave quello di cui sto venendo accusato e questa gente se la ride semplicemente perché io sono più grosso cosa vuol dire questo vuol dire ragazzi che quando hai più numeri di certa gente che fa parte di certi ambienti orridi su internet automaticamente queste persone si sentono legittimate a fare quello che vogliono semplicemente perché se gli rispondi allora è bullismo se gli rispondi allora ah vedi soltanto perché ha questo questo e quest'altro che è una cosa che mi veniva detta anche quando avevo 200 iscritti vi giuro su dio è sempre la stessa scusa stupida per giustificare un comportamento allucinante veramente allucinante sono stato accusato di essere la causa di dei divorzi cioè ragazzi se non vi sapete tenere vostra moglie soccati vostri se non siete in grado di comportarvi per l'età che avete e avete bisogno superati i 30-40 anni di stare in mezzo a community di 11-12 anni mi sa tanto che malati siete voi non sono io questa roba qua è grave molto molto grave l'ho detto 300.000 volte in questo video ma accusare una persona di certe cose è grave io non sono il vostro amichetto io non sono il vostro giullare chiaro? io sono una persona che neanche avete mai visto in faccia quindi nel senso ci sono state anche per esempio diverso tempo fa da parte di queste persone che ovviamente non potendo arrivare a me vanno a dare fastidio o comunque a inventare roba su persone che ho intorno questa cosa è allucinante e soprattutto queste persone hanno generato nel corso degli anni tutta una serie di come chiamare tipo degli adepti no? dei ragazzini o non ragazzini che questa è la cosa più inquietante cioè gente sui 24-25 anni i miei coetanei che fanno questa roba qualche giorno fa per esempio cosa è successo? è successo che hanno messo su dei canali telegram in cui inseriscono quelle che dovrebbero essere le mie vie di casa i miei codici del banco mat tutta questa serie di cose qui i miei amici cose veramente ragazzi delle cose oscene delle cose oscene e io sinceramente sono stufo sono veramente stufo perché questa cosa anche per esempio oggi ha limitato quella che è la mia possibilità di creare qualcosa io avrei voluto fare tutt'altro oggi non avrei voluto fare questo video non mi sarei voluto mettere qui a parlare di queste cose atroci e neanche avrei voluto mai viverle poi c'è capito la gente viene costretta a fare questo tipo di video per poi sentire commenti del tipo no ma fai questa cosa perché non c'è content ragazzi io ho tre mesi di content schedulato di video schedulati che devo fare che sto facendo oggi ho dovuto spostare un video se vi può interessare su che cosa era sull'esploratoio non mi ricordo comunque era perché li ho fatti prima comunque ho dovuto spostare un video di true crime no che cose forse non mi ricordo ragazzi ho tante cose per le mani però capito devi stare dietro a queste situazioni assurde per me questa è la vera assurdità se qualcuno ha veramente qualche prova di qualche cosa grave che io abbia fatto sono pronto non solo a scusarmi ma a pagare le conseguenze penalmente a pagare le conseguenze legalmente ma a questo punto io ho perso interesse capito l'interesse è arrivato a chi lavora con me e chi lavora con me ha molti più soldi di me io cioè sono una persona normalissima queste persone le ho pescate a dire che guadagno per esempio qualcosa come 180 euro ogni tre mesi ma non vi fate ridere da soli cioè una persona che ha 180 euro ogni tre mesi secondo te come vive domanda spassionata tutta San Baradano qua chi lo paga anche semplicemente questa videocamera questa videocamera costa 1600 euro se proprio puoi interessare questa cosetta qui ok compreso obiettivo compreso tutto ovviamente il mio pc sta sui 1000 rotti no di più forse 1500 questa è casa mia non è la casa che qualcuno mi ha dato mi ha regalato no questa è casa mia io pago tutto quello che c'è qui è mio punto non è un mio problema se gli altri sono dei falliti se gli altri hanno bisogno giorno e notte di cercare di buttare giù me se c'è qualcosa che può dare fastidio è il fatto che io non mi sia mai piegato nel corso degli anni a certa gente quello può dare molto fastidio ragazzi quello può dare veramente tanto fastidio e purtroppo mi rendo conto che da cioè senza mostrarvi certa cosa che io in realtà certe cose scusatemi che io in realtà sul computer ho perché nel corso degli anni mi sono sempre tenuto tutto purtroppo una cosa molto disturbata da dover fare però io mi sono sempre tenuto tutto anche cose che nel corso del tempo sono sempre state cancellate poi rimesse cancellate io ho tutto 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 è chiaro? quindi io fossi in questa gente rigare dritto ma non perché sono io bisogna rigare dritto a prescindere bisogna comportarsi bene a prescindere ma essere coinvolti in mezzo a queste cose non mi interessa adesso chi ha fatto di meno chi ha fatto di più tutti pagheranno tutti e sarebbe bastato comportarsi bene nei miei confronti sarebbe bastato comportarsi bene nei confronti del mio manager sarebbe bastato comportarsi bene nei confronti dei miei collaboratori sarebbe bastato comportarsi bene nei confronti dei miei amici sarebbe bastato comportarsi bene a prescindere però mi rendo anche conto che un certo tipo di persona è irrecuperabile certe persone ragazzi sono proprio irrecuperabili e cattive e probabilmente qualcuno ha bisogno di una lezione che se fosse una persona meno civile farei quello che c'è scritto all'interno di quello screen ok? però no a proposito parliamo anche di un altro paio di cosette visto che dobbiamo specificare due cose tanto ragazzi ormai mi hanno rovinato la giornata queste persone purtroppo non dovrei farmela rovinare però è un periodo molto delicato per me e vabbè guarda allora queste persone su cosa hanno basato questo screen idiota? hanno basato questo screen sul fatto che io diverse volte abbia dichiarato e lo confermo di aver avuto un'infanzia e un'adolescenza terribili piene di violenza purtroppo questo è io non posso cambiare il passato io posso cambiare solo quello che è il futuro se io sono qui su youtube a fare qualcosa di buono se vengo chiamato nelle scuole se vengo pagato da delle aziende per fare certi lavori se ho un seguito che a questo punto non è più piccolo un motivo ci sarà forse sto facendo qualcosa di buono è chiaro? il mio altro destino sapete quale sarebbe stato? giusto per chiarirci visto che comunque da dove arrivo io o sei figlio di qualcuno che c'ha i soldi oppure sei destinato veramente a fare una finaccia sarebbe stato ragazzi andare a fare lo spacciatore è chiaro? sarebbe stato stare in mezzo a gente terribile gente terribile io in vita mia ho visto delle cose terribili sono stato in mezzo degli ambienti terribili che molti di voi probabilmente possono soltanto vedere nei film e io me lo auguro vivamente me lo auguro vivamente che certa roba nessuno dovrebbe viverla nessuno dovrebbe passarla e non voglio neanche stare qui a fare la vittima perché semplicemente questo è quello che è stato punto queste persone hanno deciso di prendere queste informazioni e di travisarle in questa maniera io sono stato ragazzi sotto farmaci per diverso tempo ho dichiarato mi sembra in qualche video ne ho parlato pochissimi giusto per farvi capire qual è il mio livello di privacy io non metto per esempio video con x ragazza perché no o perlomeno queste sono quel tipo di cose che mi portano a non farlo eppure dovrei avere la libertà di farlo capito tutti gli altri lo fanno perché io no perché c'è questa situazione ragazzi e non mi sento di mettere a rischio nessuno quindi detto questo io purtroppo ho avuto tante sfortune nel corso della mia vita ma non è un qualcosa che dipende da me non è nemmeno un qualcosa di cui mi va cioè di che cosa mi dovrei vantare del fatto che mi hanno messo in neuropsichiatria a sette anni che sono stato sotto farmaci per dieci anni a questo e vantarsi cioè ma veramente siete invidiosi di questa roba vi vergognate un po' e boh veramente ultimissima cosa visto che sta venendo detto ah ma sta aggiendo un sacco di puttate perché il proprietario della community anti tiktok non è stato messo in galera non ha avuto nessuna conseguenza guarda che se c'era questo materiale ci chiudevano le cose allora le orecchie ce le avete anche per ascoltare non soltanto per separare la goccia è chiaro non soltanto per separare la testa ce le avete anche per ascoltare quello che uno dice chiaro il concetto bene se qualcuno vi dice guardate questi spazi venivano usati per spazio in privato delle cose io non penso che mi sia mai uscito dalla bocca su questi spazi venivano messe queste cose semplicemente queste persone evidentemente che sono state prese e non sto qui a dirvi chi sono cazzi di queste persone non sono cazzi vostri non siete la pulizia che qualcuno deve venire lì a dirvi allora sapete quanta volte ragazzi sento di genere comunque esiste la privacy capito un qualcosa che io rispetto io rispetto la privacy anche delle persone peggiori se c'è di mezzo la legge se mi viene imposto di rispettare la privacy di tot argomento io mi tappo la bocca e rispetto la privacy o perlomeno cerco di far capire un concetto senza per forza mettere ok si chiama intelligenza questa cosa adesso questa gente ha avuto il bisogno di mettersi a dire no allora tu ci devi far vedere i documenti tu devi farci vedere questo e quest'altro perché noi altrimenti non ci crediamo del venire creduto dalla feccia di internet a me sinceramente non interessa nulla sai che cosa mi interessa? aver trovato tanto materiale che potrà usare il mio manager e potrà usare il resto della gente che lavora con me per fare tutto quello che ci sarà da fare avere la lingua lunga certe volte voler fare il gradasso su internet e controproducente ricordatevi la prossima volta e ringraziate perché un altro al posto mio veniva a casa vostra e vi spaccava le gambe e probabilmente non avrebbe neanche fatto male perché vabbè poi divento cattivo ragazzi poi divento veramente cattivo e questa gente ha il modo di fabbricare roba falsa su di me niente questo era tutto quello che dovevo dire probabilmente no probabilmente è solo una micro bricio di tutto quello che ci sarebbe da dire ragazzi perché dietro questa situazione c'è sul serio l'inferno sceso in terra però non è ancora arrivato il momento di parlarne con calma e con pazienza si fa tutto ah no aspetta aspetta vabbè per me ha staccato l'audio buono ragazzi però c'è un'altra postilla che vorrei mettere ovvero il fatto che effettivamente questo tipo di persone che si comportano in questa maniera attirano tutta quanta gente che se andate a vedere è quel tipo di persona che ha sempre bisogno di fare qualcosa di male per essere notata questo è il pubblico che si attira quando si fa questa roba qua sapete che cosa è stato fatto ultimamente sono stati addirittura molestati in privato dei miei ex compagni delle superiori gente che io non vedo da 5-6 anni cioè a questo è arrivata questa gente sono andati a prendere quelli che sono i miei documenti delle superiori in qualche modo non lo so non lo so ma voi siete veramente fieri di quello che state facendo e soprattutto vi rendete almeno conto del fatto che se questo è quello che deve venire detto su di me non c'è veramente un cazzo da dire vi rendete conto però vabbè ragazzi mi dispiace veramente per voi perché vi siete ficcati in un guaio adesso chiudo veramente ciao